ciao sono luca gottardo siamo a santa bona in strada del galletto e ci troviamo nel giardino condominiale dell'appartamento che voglio presentarvi venite con me che andiamo a conoscerlo eccoci qua al piano terra il garage al primo piano l'abitazione composta da soggiorno cucina con sala da pranzo due camere matrimoniali e il bagno attenzione però perché come vedete la cucina e la sala da pranzo sono divise da questo arco quindi potrebbe anche essere ricavata la terza camera da letto in modo da avere un cucinino e la stanza in più le due camere matrimoniali sono entrambe belle grandi tenete presente che in quest'area ci sta benissimo il letto due comodini l'armadio e un comò tutto quello che necessita una camera da letto il bagno è stato completamente rifatto alla doccia e vi faccio notare un piccolo particolare è leggermente rovinato ma verrà sistemato a cure spese del venditore c'è lo spazio per la lavatrice ma è più comodo fuori nel terrazzino a un appartamento proprio comodo e d'accogliente voi che ne dite a un appartamento proprio comodo